siamo pronti per una nuova avventura il paradiso, un altro paradiso buongiorno Nare, come dire una palestra? Sì, ma stavo presentando gli altri, ti metti in mezzo Allora ragazzi, oggi siamo partiti da lì sotto Gaza, andiamo su a Passo Tracroce, andiamo a Scalorbi, su Fracaroli e giù Capanna Sinera La prima parte non filmerò tanto perché ci ho già fatto un paio di video per arrivare a Scalorbi e Fracaroli Quindi li linko da qualche parte, linka linka Linkiamo Abbiamo una troupe un po' diversa dal solito, c'è questo esemplare di Nare, nuovo nel canale, come questo esemplare di Arnas No, non è canale, mio fratello ormai è sempre il solito E buon Pippo, nuovo anche lui Un buon Mattia Un buon Mattia Ora, marzo Scalorbi Ecco Scalorbi signori E poi ci sono questi matti Giustamente non poteva mancare una sonata da campare Adesso ti mostro l'action cam, figo però magari Quella seria Tracerissima, apri Che buono Custizio Mi hai detto Marta Buongiorno Buongiorno Ma allora non ti faccio niente eh Dai tiro gliene uno di santo Pam Ti ho spaccato la gamba adesso No perché non l'hai fatto Guarda vuoi vedere la foto Wow Ragazzi abbiamo appena pranzato di sopra Sono stato Scalorbi Andiamo sul fracarolo e poi il bivacco Quello è il voglio dei colori signori Va a ronare? Oh sì No perché non l'hai fatto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti è venuta qualche idea? No, no, grazie. Torta della nonna. Si va per? Di là? Non esattamente. Giù per di là, bivaco, capanna, sinner, un'oretta e ci siamo. 40 minuti, signori. Vai! Ragazzi, c'è un camocio. Ragazzi, comunque, quello là in fondo è il bivaco. C'è un cano qua a fianco, il signore, che mi sta inseguendo, vuole sbranare. Io lo so, cazzo, segui neri. Non hai detto di no. Eh, ma se no tagliamo giù di qua, no? Eh, tagliamo alto, stiamo distante. Eh, lui protegge il piccolo. Nessuno ascolta i miei consigli. Eccolo il bivaco. Non è quello bianco, magari. Eccolo un anno dietro. C'è il posto di letto e ci siamo tutti noi. Oh, il bivaco! Ci sta, ci sta. Questo qua si fa anche alzare. Tra piani da due posti in uno. Prattica. E quindi adesso, Braghe lunghe, più mino, scaldiamoci un attimo, che fa, tira un vento della madonna. Dopo, un po' più tardi, ce n'eremo. Ragazzi, sto tornando indietro, perché ho perso il copro effettivo della fotocamera. Trovare la strana impresa. Ancora non si trova. Andiamo qua sotto. Ultima chance, però... La vedo un po' dura. È pieno di pecore! Oh, cazzo, sta arrivando un cane. Ciao, ragazzi, ciao, 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 ciao. No, non torno, via, via, via. Ragazzi, siamo appena usciti. Non mi ha giocato per un'oretta a Briscola. E c'è questa voce fantastica. Intanto ci sono due persone che si stanno rincorrendo. Non so perché. Missione acqua fatta. Hanno preso l'acqua. Abbiamo preso l'acqua. Per cenare, perché ormai è ora di cena. E siamo tutti felici. Andiamo a vedere il sole. Tu cos'è che hai per cena? Spazzo, con lo speck e fanno i fuggi. Una porzione un po' scarsa, mi dicono. Tre e mezzo. Insomma, questa è la nostra vita qui. Wow, cazzo che sole che c'è qua. Facciamo un po' di foto. Reparto cucina. Reparto notte. La nostra cenetta. È un video. Ciao. 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 Comunque ragazzi Abbiamo cenato, il sole è tramontato E stasera mi sa che mi metto lì con il trepido a fare un bel po' di foto notturne Momenti safe Ma se io mi guardo dentro quanto figo sono Fantastico Metti mi piace E' tutto Naro Allora ragazzi, le stelle stanno iniziando ad uscire Adesso montiamo tra piede, cercheremo di fare qualche bel scatto Mattigio Sveglia Coglioni Il sole tra un po' esce Il sole è uscito Ho dormito bene le ali? No Ma c'è neanche a cazzi miei se dormo un po' di meno Avevo neanche detto che in questo bivaco a 2000 metri c'è un bagno Wow Che lusso Che buono Adesso stiamo tornando indietro Greggio stamattina non c'è Mi piace, mi piace Mi piace la zucchina Zucchina Mi sento birichina Non me lo ricordo Quindi se dove cado anch'io 9 e mezza 9 e mezza 9 e 27 Di nuovo al fracaroli signori Suco caldo Metà per terra Ottimo Mi ha fatto un po' di geroni Scalorbi Ragazzi C'è una marmotta proprio lì sopra Eccolo lì Allora ormai questo video è giunto al termine Perché siamo organizzati in fondo Questo tragitto lo consigliamo a chi Ha un po' di esperienza Di montagna Non proprio alle prime armi Scalponi alti Buon allenamento anche Non fa mai male Fuori entra a scuola Hur ai A me점 C'è una marmotta proprio a chi